siamo pronti possiamo entrare dentro casa impossibile hanno dei sensori infrarossi all'esterno con un raggio di 12 metri ma noi possiamo tagliare i fili impossibile sono via radio senza fili e allora se suona la sirena la prendiamo a manganellate e no la sirena è anti scasso e anti schiuma hanno anche il combinatore telefonico sì e anche quello senza fili prodotto italiano eh sì e allora rubiamoci l'antifurto no perché quello è anche economico partitella a carte